Bruno Granieri, presidente della Proloco di San Menaio e Calenella, Gargano Media Festival, questo grande evento che si terrà nei giorni primi del mese di settembre tra Vico del Gargano, San Menaio e Peschici. Com'è nata questa idea? L'idea nasce dalla volontà di regalare al nostro territorio, questo Gargano, un evento molto importante distribuito su cinque giornate con nomi piuttosto importanti che a loro modo hanno caratterizzato nelle rispettive discipline la comunicazione. Gargano Media Festival, quindi in queste tre parole, si racchiude un territorio che ha sempre più bisogno di aiuto nonostante i suoi numeri importanti sul turismo, media, il tema della comunicazione oramai usata tra i più piccoli e i più grandi e quindi festival proprio a voler indicare un insieme di rappresentazioni importanti per il nostro territorio. Cinque giorni all'insegna dei grandi nomi, degli incontri, dei dibattiti, delle riflessioni, quale sarà il filo conduttore di questa quasi settimana di festival della comunicazione? Il filo conduttore sicuramente sarà la comunicazione. Oggigiorno la comunicazione è diventato qualcosa sicuramente importante che ha preso il sopravvento un po' ovunque. Da prima anche in mano ai bambini con un telefonino, adesso è possibile fare della comunicazione, è possibile riportare notizie, quindi bisogna ben comprendere che differenza c'è tra il lavoro del giornalista e quindi della comunicazione, di fare comunicazione, e quello in cui ognuno oggi ci si immedesima per dare informazioni. Volemo ricordare i nomi e perché proprio questi nomi? Ad iniziare da Stefano Meloccaro, il giornalista di Sky che presenterà le cinque serate. Sicuramente Stefano Meloccaro per noi ha rappresentato una punta di diamante, uno dei giornalisti sicuramente più importanti del panorama italiano, uno che è un professionista che lavora anche all'estero con lo sport ma non solo, si è contraddistinto per diversi tipi di intrattenimento, dalla parte gastronomica a quella sportiva, a quella politica, è insomma un giornalista sicuramente trasversale. I nomi si parte con il 4 e il 5 settembre, rispettivamente con Massimo Giletti giorno 4, e Neri Marco Re, attore e doppiatore, insomma chi più ne ha più ne metta davvero, passando per il grande Gianfranco Vissani, sicuramente come dire, il precursore di tutti questi chef televisivi dei tempi moderni a San Menaio. Mentre si conclude giorno 7 e 8 a Vico, rispettivamente con Arrigo Sacchi, credo che qui non ci sia bisogno di grandi presentazioni, uno che ha cambiato il modo di fare calcio, e Walter Veltroni, politico, regista, sindaco, insomma scrittore, direttore di giornali, ognuno, come dicevo prima, a modo loro ha contraddistinto il nostro filo conduttore attraverso il proprio lavoro.